25 anni fa a Palermo l'omicidio per mano mafiosa di Libero Grassi, l'imprenditore che si ribellò Alpizzo. Al Via Catania la festa nazionale dell'unità, il presidente Crocetta, ospite della manifestazione, si è autocandidato alla guida della regione siciliana. Grande successo di pubblico al Teatro di Verdura di Palermo per il concerto di Ruggero Mascellino e Roi Paci. Buonasera e bentrovati all'edizione di Media News di lunedì 29 agosto. 25 anni fa a Palermo l'omicidio per mano mafiosa di Libero Grassi, l'imprenditore che si ribellò al pagamento del pizzo. Tante le manifestazioni per ricordare il simbolo dell'antiracket. Vediamo. Sono trascorsi 25 anni dall'omicidio dell'imprenditore palermitano Libero Grassi, divenuto simbolo della lotta al pizzo e alla mafia. Aveva pubblicato una lettera sul giornale di Sicilia in cui scriveva che non avrebbe mai pagato. Fu considerato un cattivo esempio per gli altri commercianti. Morì alle 7.30 del mattino del 29 agosto del 1991 senza la solidarietà dei colleghi e abbandonato dalle istituzioni. Oggi sarebbe affiancato da molti colleghi che in questi anni con l'ausilio del movimento antiracket si sono finalmente liberati da ogni forma di taglieggiamento, oltre che da miglia di cittadini pronti a sostenere la sua scelta, ha commentato il comitato di addio pizzo. Tante le iniziative per ricordarlo. Stamattina alle 7.45 ora dell'agguato la commemorazione in via Alfieri. Poi l'intitolazione del giardino di piazza Caboto alla vedova Pina Maisano, scomparsa qualche mese fa. Tra gli appuntamenti, stasera alle ore 21, nell'atrio della biblioteca comunale Casa Professa, verrà proiettato il docufilm Io sono libero, in contemporanea in onda sul Rai 1. E sempre oggi verrà trasmesso in seconda serata su Canale 5 all'interno di Top Secret il documentario Libero nel nome, realizzato sei anni fa da Pietro Durante. Le celebrazioni quest'anno hanno avuto un prologo ieri con una pedalata partita da Porta Felice. Ha preso il via a Catania la festa nazionale dell'unità che si svolgerà a Villa Bellini fino all'11 settembre. Il presidente Crocetta, ospite della manifestazione, ne ha approfittato per autocandidarsi alla guida della regione siciliana. Io sono candidato, saranno i cittadini a decidere se un'esperienza è da bocciare o meno. Lo ha detto il governatore siciliano Rosario Crocetta, partecipando a Catania alla festa nazionale dell'unità, che si svolgerà nei giardini di Villa Bellini fino all'11 settembre. Il presidente ha approfittato dell'occasione per autocandidarsi alla guida della regione siciliana, rivendicando alcuni risultati della sua azione di governo. La politica di risparmio e austerità ci ha consentito di portare in pareggio il bilancio e abbiamo aumentato il PIL negli ultimi tre anni, ha ricordato ai tanti giornalisti presenti. Se pensiamo ai laboratori politici, come all'esperienza delle ammucchiate del passato, ha aggiunto, sono questi termini del ragionamento da fare. Dobbiamo ripartire senza trasformismo per farci capire dalla nostra gente. Poi Crocetta ha citato Pierpaolo Pasolini, quando si vince sul terreno degli altri si perde, non possiamo trasformare la politica in un gioco squallido di potere. Io ho vinto le elezioni sulla base di una proposta politica chiara e di alternativa, che metteva insieme la società civile, la sinistra e le forze democratiche di ispirazione cattolica. Questa sarà la mia proposta. A chiudere la manifestazione sarà il premier Matteo Renzi, che salirà sul palco di Villa Bellini l'11 settembre alle 18.30. È la prima volta che la festa nazionale dell'Unità si svolge al sud. Orgoglioso, ci vediamo lì per dire sì al cambiamento, ha scritto su Twitter il sottosegretario all'istruzione Davide Faraone. Ancora controlli nella movida palermitana, elevate multe a gestori di locali ed avventori. Secondo Patrizia Diddio, presidente di Confcommercio Palermo, non si può vietare la musica, ma servono regole certe. Continuano i controlli della Polizia Municipale in pub, gastronomie, drincherie e locali della cosiddetta movida palermitana, soprattutto nelle vie Bottai e Chievettieri e sul lungomare Cristoforo Colombo alla Daura. Su questa litorane altri controlli su strada sono stati eseguiti dalla sezione autovelox con autorizzo dell'etilometro per verificare un'eventuale guida sotto l'affluenza dell'alcol, rispetto dei limiti di velocità e delle norme di comportamento previste dal codice della strada. Il bilancio finale ha registrato sei sanzioni per occupazione abusiva di suolo pubblico e diffusione sonora di musica oltre l'orario consentito dall'ordinanza comunale. Un centinaio di controlli su strada, 40 dei quali con etilometro, 5 ritiri di patente, una denuncia penale per guida in stato di ebrezza ed una ventina di contravvenzioni per mancata revisione del mezzo e mancato uso delle cinture di sicurezza. In via Bottai, dove in collaborazione con i tecnici dell'ARPA, l'Agenzia regionale di protezione ambientale, sono stati verificati il rispetto dei limiti di inquinamento acustico, sono state combinate due sanzioni per eccedenza di occupazione di suolo pubblico. I servizi continueranno senza sosta e saranno incrementati grazie all'approvazione del bilancio di previsione, con il quale sono stati assegnati alla Polizia Municipale i fondi previsti dall'articolo 208 del codice della strada. La musica da discoteca a cielo aperto fino a tardanotte è inaccettabile, ma neanche una città spenta nella musica è una città qualitativamente vivibile e a misura di turista, afferma Patrizia Di Dio, presidente di Confcommercio Palermo, che aggiunge. Al contempo però non si può andare avanti così e la continua incertezza regolamentare espone a dubbi e rischi inaccettabili i gestori che cercano di adeguarsi correttamente. Corpo forestale. In Sicilia non ci sarà l'accorpamento nei carabinieri. La decisione è comunicata dall'assessore Croce perché non ci sono i presupposti. I circa mille dipendenti del corpo forestale della regione siciliana non saranno accorpati ai carabinieri. Dopo settimane di incertezza arriva finalmente la decisione del governo regionale, comunicata dall'assessore al territorio ambiente Maurizio Croce. Il corpo forestale in Sicilia non sarà accorpato ai carabinieri come invece avverrà nel resto d'Italia, per decisione del governo, che così vuole attuare una spending review stimata in 124 milioni di euro. Nell'isola però questo non avverrà. Abbiamo fatto tutte le verifiche del caso, spiega Croce. Il corpo forestale è il quarto organico di polizia dello Stato, mentre in Sicilia è l'unico della regione. Eppur volendo non avremmo potuto accorparlo, sarebbe stato complicato a livello giuridico. È stata anche evagliata, spiega ancora l'assessore Croce, la possibilità di scorporare il personale specializzato che aveva competenza nella lotta ai reati ambientali. Ma ogni ipotesi non era fattibile. Anche nelle altre regioni, a statuto speciale, dovrebbe restare in vita il corpo forestale. Ha cosparso di benzina un cittadino rumeno e gli ha dato fuoco. Ha arrestato un pastore di Riesi. Le condizioni della vittima sono gravissime. Ha dato fuoco ad un rumeno di 41 anni, cospargendolo di benzina davanti a una folla spaventata nel centro del paese. Con questa accusa, Vito Emanuele Ciccia Romito, pastore ventenne di Riesi, con precedenti per droga, è stato arrestato dai carabinieri, avvertiti dai presenti in piazza Garibaldi, dove nella notte tra sabato e domenica è avvenuto il fatto. Quando i militari sono arrivati, il romeno con ustioni in varie parti del corpo stava per essere trasportato dall'ambulanza all'ospedale di Mazzarino, dove poi è stato condotto al cannizzaro di Catania, in gravissime condizioni. Grazie alle testimonianze e all'analisi dei sistemi di videosorveglianza, i carabinieri sono riusciti a individuare e arrestare il ventenne, non sono ancora chiari, i motivi del tentato omicidio. Servizio civile. Dal 5 settembre partono i colloqui per 604 candidati. Vediamo. Partiranno lunedì 5 settembre i colloqui dei 604 candidati a messa le selezioni per i progetti di servizio civile nazionale. I colloqui si terranno presso la sede di Palazzo Magnisi, via Fratelli Orlando, numero 16 a Palermo, con l'articolazione indicata a fianco dei candidati, ripartiti in base al progetto prescelto. Tutti i candidati convocati dovranno, per sostenere il colloquio di selezione, presentarsi nel luogo, nel giorno e nell'orario previsti, muniti di un documento di identità in corso di validità. Colui che, pur avendo presentato domanda, non si presenterà nei giorni stabiliti senza giustificato motivo, sarà escluso dalla selezione per non aver completato la relativa procedura. L'elenco dei candidati a messa alle selezioni è stato già pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Palermo, insieme all'elenco delle istanze escluse perché non conformi al bando. Teatro Biondo di Palermo, il direttore Roberto Alaimo ha ritirato le proprie dimissioni. Il direttore del Teatro Biondo, Roberto Alaimo, accogliendo l'invito dell'Assemblea dei Socii del Consiglio di Amministrazione, ha deciso di ritirare le proprie dimissioni. Una decisione che soddisfa il sindaco di Palermo, Leo Luca Orlando. Ho ricevuto la notizia da Roberto Alaimo, ha dichiarato il sindaco, e ritengo che vi sono adesso le condizioni per proseguire e sviluppare l'ottima attività artistica degli ultimi due anni, realizzando a contempo il necessario risanamento finanziario organizzativo dell'ente. Ritengo infatti, ha proseguito il sindaco, che sì e debba essere possibile, senza indugi, evitare l'inaccettabile default al quale il biondo appariva destinato a garantire e rafforzare la presenza del teatro pubblico palermitano nel circuito dei teatri nazionali. A tal fine occorre, e sono certo non mancherà, l'impegno responsabile di tutti, dalla governance ai soci, dai lavoratori al pubblico, che ha apprezzato gli ultimi cartelloni. Premesse di tale doveroso percorso, ha concluso Orlando, sono la rapida definizione e l'avvio del nuovo cartellone, e al 31 dicembre la chiusura in pareggio del bilancio 2016. Al via la seconda edizione di Gela in Arte, manifestazione che raggruppa artisti da tutta la Sicilia. Oggi Gela in Arte, manifestazione organizzata da Davide Ferrara, in collaborazione con diversi gruppi locali, per consentire di avere una giornata diversa. dove i vicoli si sono animati con mostre, i balconi sono diventati dei palcoscenici per delle esibizioni teatrali, dove ci sono state delle strade, la strada è diventato di fatto un unico palcoscenico. ci sono diverse azioni animate dalla banda che gira per le strade della città. Devo dire che la città sta rispondendo molto bene, tutto il corso e la piazza sono pieni, sono pieni gli stand che sono stati realizzati qui in piazza, un piccolo mercatino enogastronomico. una serata diversa, dove si può mettere insieme l'arte della cucina, con l'arte della musica, l'arte della prosa, varie manifestazioni, tutta una serie di varie manifestazioni, che consentono di passare una piacevole serata estiva agostana fuori di casa. Grande successo al Teatro di Verdura di Palermo per il concerto di Ruggero Mascellino e Roi Paci. Vediamo. L'attesa perché siamo sempre in attesa di qualcosa, ognuno di noi ha sempre qualcosa che deve arrivare, anche perché tu speri sempre che siano cose migliori rispetto a quelle che fai. Poi stasera c'è un sapore particolare, perché a parte presentare il disco con la mia band, con cui lavoro da sempre, siamo 22 musicisti, stasera c'è un ospite che colora ancora più il tutto, perché proprio come carattere, come modo di essere, per quello che è, c'è la persona ideale per farci divertire, per proprio esaltare il progetto che già di su è abbastanza forte. Mi è arrivata una chiamata che mi ha reso molto felice, il fatto che Ruggero mi invitasse all'interno del suo organico, e che è stata una sorpresa, perché non conoscevo Ruggero per quello che fa, per fama, e anche lui non ci conoscevamo, ecco, prima di questa occasione. Quindi è stato per me anche uno stimolo doppio, proprio il fatto che poi mi invitava a fare questo concerto, tra l'altro qui, in questo scenario meraviglioso, che io già avevo calcato tantissimi anni or sono. E quindi, niente, poi alla fine ci siamo visti, abbiamo fatto le prove, e vi posso dire la verità fino in fondo, cioè io ancora di più ho apprezzato e sto godendomi questo momento, proprio perché al di là del musicista, poi serve sempre comunque capire che cosa c'è dal punto di vista umano. Ruggero Mascellina, a parte un compositore, un autore, un musicista eccelso, è una persona con un'umanità incredibile. L'organizzamento di questa portata ci vuole tanto lavoro, ma sicuramente noi siamo audaci e allora le facciamo queste cose. Si parla di musica e proprio perché parliamo di musica parliamo anche del prossimo evento, visto che sarà fra poco, fra due settimane, inizierà questo bellissimo evento internazionale che è il Tango Fest Palermo, dall'8 all'11 settembre, che sarà fatto in collaborazione con il Brass, nella location favolosa, che è il complesso monumentale dello spasimo. quindi diciamo si ballerà sotto le stelle. È tutto, grazie per l'attenzione. Come sempre vi do appuntamento alle prossime edizioni. Grazie. 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 Grazie.